bravo vai vai ancora meso botulino bravo ricordati che devi lasciarne un po eccola lì quella è una bella papula è detta a 20 devo lasciarla a 25 a 20 stiamo usando Bokutur meso botulino ecco bravo quanto è? adesso te lo dico eh non è facile 20 10 15 020 020 bello bravo vai dai papula vediamo dai eccola lì perfetto bravo quella è una papula quella lì non arrivi nel risorio bravo bravissimo bene due basta perché poi due tre resto alla bravo Grazie.